Ciao ragazzi, stasera sto facendo il pizzaiolo Abbiamo creato la pasta di pizza e l'abbiamo fatta ingrandire per quante ore? Due ore Per due ore Adesso la stiamo tutta impastando Io la sto impastando Per prendere tutta la farina che c'è qui intorno Vedete? Devo prendere tutta la farina che c'è qui intorno E poi bisogna metterla qui dentro e stendermla Adesso la mescoliamo un po' Facciamo un piocco, anzi una caramella E poi continuiamo ad impastarla così Poi si mette qui in mezzo una pallina Si mette qui in mezzo e poi si deve schiacciare 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 Si deve schiacciare Tutta Questo deve arrivare qui in fondo Si deve riempire Tutta Adesso la facciamo crescere Un'altra oretta E poi facciamo la farcitura Sto mettendo il pomodoro in tutta questa pizza Dobbiamo fare una pizza con i pomodorini E questa pizza rossa Di sugo Adesso bisogna premere i pomodorini Sempre metterli qui Rossa Una focaccia rossa con i pomodorini Bisogna spingerli dentro Così Un po' sparsi E questi E questi pomodorini Sono proprio tanti Ok E poi bisogna anche schiacciarli un po' Per mettere il succo di pomodorino dentro Adesso Adesso mettiamo un po' di olio Adesso un pochino di origano Ma Un pochissimo Un pizzico di sale Ed è pronta Per essere Infornata Ragazzi Adesso facciamo la margherita Pomodoro Mozzarella E basilico Spalmiamo tutta 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 Di pomodoro Tutta Non sono un pizzaiolo Non sono un pizzaiolo Ma lo sono Non sono ma Sono un pizzaiolo Non lo sono Però adesso non lo ripeto Non lo mettere dentro Adesso facciamo la pizza rossa Praticamente Questa dovrebbe essere una margherita Però Ho detto alla mamma Che volevo farla una rossa Quindi gli ingredienti sono Ovviamente L'impasto della pizza E il sugo rosso Olio Sale E origano Mettiamo Mettiamo un po' di olio Così Basta Sì Basta Poi Prendiamo un po' di sale No Prima l'origano Poi il sale Ok L'origano Facciamo Un po' Questa Non deve essere Proprio Vuota Con l'origano Basta così Così Basta Questa Di solito Quando ordiniamo la pizza Ogni tanto la mando Poi prendiamo un po' di sale Facciamo Così E' fatta Eccola qui La mia pizza rossa Leo non vi ha fatto vedere Questa Perché non gli piace molto il formaggio Lo odio Allora abbiamo messo sotto Uno strato di mozzarella sotto Poi ci sono le zucchine sopra E il parmigiano Ragazzi Adesso dobbiamo mettere la nostra pizza Nel forno a legno Ok Così Al contrario Poggila lì che lei ci pensa a pati Ok basta Basta Bravissimo Eccola lì Abbiamo anche messo Piuma Nella sua bella casetta Ciao Piuma Bentornato nel tuo castello Prima stavo mettendo le zucchine sopra Eccola qui Eccola qui E adesso Stavo mettendo le zucchine sopra Piuma dove sei? Eccoci là Eccoci Ragazzi Come abbiamo messo Ve le ho fatte vedere Cotte E adesso Le stiamo mangiando tutte Tutti Le stiamo mangiando Tutte Ci vediamo al prossimo video Ciao Leonardo Di Con Mauro e Trici Ci danno tanta allegria C'è la simpatia Nei video di Leonardo Di